Buongiorno a tutti sono Daniele Marotta della scuola di fumetto scrittura di Siena e dell'etichetta Ink Drop Studio. Oggi parliamo di colore. Nel nostro corso online sul fumetto abbiamo parlato di tutti i concetti di base, abbiamo parlato di composizione, di matite e adesso passiamo al colore. L'inchiostrazione che è una parte fondamentale del fumetto sarà oggetto di un ciclo di video successivo. Intanto però per esercitarsi nell'inchiostrazione che è come posso dire la tecnica più artigianale, più difficile, più difficile da insegnare perché prevede molta 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 pratica, vi consiglio di esercitarvi in questo modo. Abbandonate gomma e matita, prendetevi degli sketchbook e iniziate a disegnare dal vero senza lapis, disegnando direttamente in nero e per cancellare usate un bianchetto stick, un bianchetto a penna, un bianchetto a pennello, non a nastro, un bianchetto liquido, in modo che iniziate a pensare come a imparare, come modulare i tratti usando semplicemente un segno nero. Sperimentate più tecniche possibile, più tratteggi possibili, tipi di carte diverse, penne diverse, pennarelli, vari tipi di colori, inchiostri diversi. L'importante è che siano nero pieno, non sfumabile, ok? Non acquerellabile in nessun modo. Perché? Perché la cosa difficile dell'inchiostrazione non è tanto fare i neri quanto fare i grigi, tutte le tonalità di grigi. Per cui l'unico modo copiate vignette, anche copiate fumetti che vi piacciono con un bianchetto e nero che vi piace, studiate. Però la cosa importante è che osservando i toni, le luci e le mezze tinte della realtà, troviate un vostro modo di fare i grigi, un vostro tratteggio, delle vostre texture, vostre personali o anche copiate e studiate dai grandi artisti del fumetto, non importa. Però è un processo di vostro, di metabolizzazione. In modo che, perché qual è la gran differenza? È che osservando una matita, un disegno a matita di valore 10, poi la vostra inchiostrazione è di valore 5, perché non avete la tecnica, per cui il disegno complessivo, la qualità del disegno complessivo si abbassa. In questo modo, invece, lavorando tanto, tanto, tanto dal vero con penne, pennarelli neri e sviluppando voi una serie di toni, della capacità di modulare le campiture facendo tutti i grigi possibili, semplicemente con delle punte nere, riuscirete a inchiostrare tanto quanto sapete disegnare. Questo poi oggi lo potete fare con digitale, poi ne parleremo, insomma, ma intanto cominciate ad esercitarvi perché la vostra tecnica di inchiostrazione aumenterà alla velocità della luce. All'inizio, quindi fate anche nel vostro sketchbook personaggi se volete, ma la cosa importante è che, appunto, iniziate a studiare dei vostri modi per fare dei grigi e sia inventando, sia disegnando, disegnando voi dal vero, fondamentale. E poi vedete, come in questo caso, qui si vede abbastanza bene, usate il bianchetto per correggere gli errori, senza problemi, perché l'inchiostro nero non è una, come posso dire, cosa sacra, una, cioè si deve cancellare, così come il lapis, si lavora in nero e si cancella in bianchetto, stop, fine, se non è un problema, non è che deve essere definitivo, perfetto, magico, ok? La perfezione viene con l'esperienza. Poi considerate che oggi si inchiostra in digitale, quindi non è anche in digitale, non è un problema, punto, passiamo al colore. Allora, il colore è fondamentale per l'arte visiva, come potete vedere da questa veduta di Siena o da altre cose, o anche da quello che c'è intorno a me. A cosa serve? Allora, intanto partiamo dal principio, dall'elemento fondamentale. A cosa serve il colore in un'opera visiva, ok? Non è che, sì, nella realtà il colore c'è, quindi va bene, e quindi dobbiamo metterlo nei fumetti. Non è detto, perché moltissimi fumetti sono in bianco e in nero in toni di grigio, per esempio. Il colore può e deve avere una funzione di cui noi abbiamo coscienza. Poi decidiamo se colorare perché ci piace, se colorare perché il mercato di riferimento, tipo quello americano o quello francese, richiedono fumetto colorato, per cui sicuramente se noi vogliamo provare a lavorare in questi settori, sicuramente dobbiamo colorarli o appoggiarci a dei coloristi, ma di base capire qual è avere coscienza della funzione fondamentale del colore. Il colore serve innanzitutto ad aumentare la leggibilità di una scena, ok? Per cui, vedete, la scritta esce fuori subito per il colore. Voi distinguete il mio orologio dal mio polso per il colore. Il colore ci serve a riconoscere immediatamente cosa è cosa, ok? Questi libri si spiccano per i loro colori. Poi dopo, se fossero tutti in bianco e nero o in toni di grigio, il singolo libro non si riconoscerebbe. Quindi, in questo senso, questa è la prima regola. Il colore serve a riconoscere cosa è cosa rispetto a un lavoro in bianco e nero o in toni di grigio, in cui questo anche è possibile, ma meno immediato. Vedete, in questa veduta di Siena, il Duomo e la Luna si riconoscono immediatamente perché sono gli elementi senza colore, ok? Quindi spiccano subito. Allora, in questo senso, quindi il colore serve a riconoscere cose e cose e anche a determinare una certa atmosfera che è data dal freddo, dal caldo, eccetera, eccetera. Prima cosa. Seconda cosa, i colori non sono mai, la colorazione di una scena, riportatevi sempre che noi pensiamo a scene, i colori di una scena non sono mai quelli propri degli oggetti, ok? Per cui, in questo caso, dietro di me, voi vedete che metà dell'inquadratura a i colori dei libri dominati da questa dominante gialla, che è data dalla luce che abbiamo qua. Mentre da quest'altra parte vedete che la luce bianca sta, in qualche modo, facendo esaltare, risaltare tutti i colori dei tutti i singoli libri. Qual è la più corretta? La più corretta per una rappresentazione è questa qui. Nel senso che la cosa che noi dobbiamo cercare sempre nella nostra messa in scena, nella nostra rappresentazione, è la coerenza. Ricordatevi sempre che una nostra vignetta è una finestra in un mondo coerente. Quello che voi vedete nel video, me che parlo davanti a una libreria, è coerente, vi risulta, vi sembra credibile proprio perché è reale e quindi è credibile. Ma se fosse l'opera di un disegno, se fosse un'opera di una tecnica artistica, per essere credibile dovrebbe essere coerente. Non tanto, come abbiamo parlato nel video a cui vi rimando, che è il video sugli stili, non è tanto importante lo stile. L'importante è che lo stile rappresenti una costante coerente e che quindi noi apriamo una finestra su un mondo coerente per quanto strano, per quanto abbozzato, ok? Per essere coerente non tutto deve avere il proprio colore, cioè non ci deve essere una anarchia di colori, ma ci deve essere un dominante che colora tutto in un modo più o meno univoco, che domina tutti gli altri colori, in modo che la rappresentazione coerente risulta più godibile, più armoniosa e più funzionale al racconto. Poi ne parleremo. Per cui, non a caso, perché le foto, lasciate fare che ora i telefoni, fanno delle foto incredibili da sole. Ma perché una foto fatta da noi sembra più caotica, meno pensata, meno interessante rispetto alle foto di paesaggio dei grandi fotografi? Perché i grandi fotografi non fotografano a caso, come facciamo noi, semplicemente colpiti dal soggetto. I grandi fotografi si interessano alla luce, all'atmosfera, all'ora in cui rappresentare il soggetto. Cioè noi, passando, diciamo, oh che bell'albero e lo fotografiamo, oh che bella scena e la fotografiamo, il fotografo professionista dice che bell'oggetto, che bell'albero, che bella scena, a che ore posso venire per fotografarlo? E quindi decide che in base al clima, all'atmosfera, in base all'ora, alla luce, quella particolare scena si esalta in un certo modo. Di solito queste luci sono più adatte all'alba o al tramonto, o in condizioni di nebbia, o in condizioni di brutto tempo, o in condizioni di, come dire, di nuvolosità. Perché? Perché si crea un'atmosfera omogenea, ricordatevi sempre questa parte di tau, di distanza, ok, dominata dalla luce gialla della lampada, si crea un'omogeneità che rende tutto armonico, ok? Per cui ci vuole una dominante. Considerate che, per esempio, nei film, rispetto alle scene, così con la luce, come vengono girate, poi vengono ricolorati con un procedimento proprio che si chiama color, in cui vengono ridefinite le tavolozze e le dominanti di quella scena per rappresentare determinate cose, ok? Quindi il colore non è casuale, uno. Due, non è che si colorano le cose per quello che è il loro colore proprietario, ok? Ma si colorano in base alla dominante. Per esempio, nelle scene dei film, i personaggi hanno un abbigliamento che è in relazione armonica, poi vedremo come, con l'ambiente circostante. Preciso, il poliziotto della scena del crimine ha la camicia del colore che si adegua all'arta pezzeria della casa, cosa che nella realtà non esiste, perché a noi della realtà non ci importa. La realtà è funzionale, deve essere a un racconto, il nostro racconto deve essere credibile in base alla realtà, ok? Quindi parliamo di scene. Le scene devono essere l'elemento base della nostra colorazione. Noi non coloriamo un fumetto, necessariamente, anche se possiamo decidere dei colori base con cui coloriamo tutto il nostro fumetto. Noi abbiamo 4-5 colori, ci facciamo tutto il fumetto e ok. Come per esempio nel bellissimo lavoro di Marco Taddei e Eleonora Antonioni su Alexander von Humboldt, uscito da poco per Hoppy Polla, in cui tutto è, vedete, sui toni dei verde e dei rosa e dei viola, per cui tutto il fumetto è colorato in questo modo. Quindi questa è una scelta a monte, è una tricromia voluta, che funziona come una bicromia, come se per esempio il mio Super Zelda è colorato tutto in toni con un mezza tinta blu, con cui facciamo le ombre e anche i colori, certe parti di colore, no? Quindi in questo senso esistono quindi tanto delle decisioni a monte su cui puoi far ruotare tutto e ci può stare. Se invece noi vogliamo colorare un fumetto con tutti i colori possibili, dobbiamo ragionare per scene. Perché? Che cos'è una scena? Anche da un punto di vista narrativo. Una scena è un'unità di storia, una parte della storia, che ha luogo nello stesso spazio-tempo. Una parte del fumetto inizia in una casa, in una sala da pranzo, la scena rimane finché si resta in quella sala da pranzo. Se si va in camera, cambia scena. Siamo sempre all'interno, ma cambia scena, cambia camera. Se usciamo, per esempio, i personaggi sono in sala da pranzo, discutono, vanno nel vialetto fuori casa, entrano in macchina e poi c'è una scena in macchina. Allora, i personaggi, mentre sono in sala da pranzo, per quanto duri, è la stessa scena, spassano dal vialetto, è un'altra scena, entrano in macchina, un'altra scena ancora. Si presuppone che ogni scena abbia delle caratteristiche specifiche di luce e di ora, di luce atmosferica e di luogo, no? Per cui il soggiorno avrà una luce, dei colori, che non ha il vialetto dell'uscita di casa, che non ha l'interno dell'automobile. Per cui ricordatevi che a ogni scena corrisponde una tavolozza diversa. E si deve riconoscere anche dal punto di vista di leggibilità. Quindi abbiamo parlato della logica del colore, abbiamo parlato della dominante, i colori devono avere una dominante specifica, e adesso vi faccio vedere degli esempi. Ricordatevi, per esempio, di usare Pinterest, se volete, per fissare, quando trovate dei fumetti colorati in un modo, secondo voi, interessante. Ecco qua, vedete quindi delle tavolozze specifiche, con delle atmosfere specifiche, che non sono tutti i colori del mondo, ma semplicemente una selezione di colori. Per cui è molto importante decidere, in base alla scena, anche questo esterno, a una luce specifica, a una tavolozza specifica, e non tutti i colori dell'universo. Non è che qui se c'è un prato verde io ci metto il prato verde smeraldo, semplice perché rimango con i colori della tavolozza che ho deciso. Ok? Stessa cosa vedete qua, anche qui, come nel caso di quell'altro, di Von Humboldt e di Marco Taddei, abbiamo una tavolozza limitata, per cui qui, per esempio, si vede molto bene. Questa scena ambientata dentro il locale ha una tavolozza su viola specifica e il personaggio della ragazza ha dei colori caldi, laddove tutto il resto, a parte la luce, ha dei colori freddi. E quindi, vedete, si sviluppa con una tavolozza omogenea. Quando si passa a questo elemento più surreale della ragazza che si spoglia e del personaggio su questo bicchiere, vedete che cambia la tavolozza, è come se cambiasse scena. Vedete, anche questo, l'esterno, ha una tavolozza specifica, basata su una dominante. Vediamo quali sono le dominanti. In questo caso la dominante è blu, in questo caso la dominante è arancio. L'esterno ha dominante blu, l'interno ha dominante arancio. Colori caldi, colori freddi. Questa è una tavola molto interessante. Non vi sto a dire troppo tutti i nomi, perché sennò diventa molto più farraginosa la cosa. Però, guardate, in questo caso, qui è una bella sequenza di spazi-tempo diversi, per cui il viaggio del personaggio in spazi-tempo diversi, e vedete che quindi ogni ambiente ha una tavolozza diversa con delle dominanti diverse. Questa sul color mattone, questa sui verdi, questa sui gialli, questa sui verdi chiaro e questa sui verdi e blu. Poi vedremo, ok? Quindi imparatevi a pensare in termini di dominante. Vedete qui, per esempio, che invece ci sono dei colori a volte meno basati sulla dominante, si hanno un effetto un po' più caotico e quindi bisogna vedere poi nella logica generale. Però, vedete, l'ambiente ha un colore dominante sui blu e colori gialli chiari e poi ci sono questi elementi che spiccano, però forse spiccano anche un po' troppo. Quindi bisogna vedere, ecco, in questo caso c'è una luce atmosferica molto precisa sui verdi e vedete com'è tutto più coerente, più leggibile, più intenso, per quanto non esiste poi una cosa già, una casa verde con delle luci verdi e basta. Però, in realtà, il nostro cervello lo recepisce come assolutamente coerente e importante. Mentre, vedete, laddove ci sono invece dei colori più caotici diventa più difficile la leggibilità rispetto invece a degli ambienti in cui i colori sono più coerenti. Però può essere anche un elemento funzionale alla storia. Per cui abbiamo parlato di colori dominanti, la colorazione non è mai quella delle cose proprie ma deriva da una luce principale o atmosfera principale. Vi saluto per adesso. Da Daniele Amarotta è tutto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Prossimamente parleremo di come scegliere i colori per il nostro lavoro. Vi ringrazio, vi saluto. Da Daniele Amarotta è tutto. Arrivederci.